allora oggi parliamo dell'ancoraggio delle sciocche e come montarle nel migliore dei modi per non avere problemi col passare del tempo la sciocca può creare questo effetto fontanella l'effetto fontanella non è altro che una sciocca non posizionata adeguatamente perpendicolare al pavimento vi faccio vedere una sciocchettina eccola qua ce l'ho proprio in mano questa è una sciocca da 0,8 ci sono ciocche che possono essere 0,5 0,8 un grammo un gramme 2 il tipo di lavoro che deve andare a fare io vi faccio vedere su questo slate un disegno da tenere sempre in considerazione durante il montaggio delle sciocche è l'angolazione giusta quella che va tenuta in modo costante a un angolo di 10 gradi questo ci dà l'opportunità di avere delle sciocche fluide e non creare eccola qua la seconda slate per evitare questo effetto che le sciocche non siano fluide questo influisce nella garanzia che noi diamo di 100 giorni alla cliente è fondamentale che le sciocche siano sempre fluide